Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, parliamo della questione Juve e staff ma non solo, parliamo anche di Paolo Di Bala perché oggi le notizie dei quotidiani sportivi e di alcuni organi di stampa sportiva dicono la seguente cosa, ovvero che Paolo Di Bala il suo rinnovo insomma è ancora incerto perché a quanto pare sta avanzando delle pretese un po' esagerate si parla di una richiesta di 15 milioni di ingaggio netto a stagione poi un'altra cosa, a quanto pare anche secondo i piani della società, se arriva un'offerta congrua la Juventus potrebbe valutare la cessione di Paolo Di Bala cessione che ripeto l'anno scorso ci hanno dato un pelino nello scambio con Romelu Lukaku quest'anno però potrebbe concretizzarsi, chissà, io dalle notizie che ho, dalle fonti che sento quotidianamente una di queste è Romea Gresti, nulla di segreto perché poi lo dice a me, lo dice anche a voi secondo lui il rinnovo di Paolo Di Bala è vicino, mi fido cercamente di lui, è un grandissimo professionista non Di Bala, parlo di Romeo, e lo ha dimostrato in tutti questi anni che ha narrato insomma le vicende di mercato in casa Juventus con una certa efficienza e con una certa rapidità secondo lui il rinnovo è sempre più vicino e si farà, ci sono alcune cose di cui parlare, alcuni dettagli da limare però ci sarebbe una sorta di matrimonio già promesso tra la Juventus e Paolo Di Bala Paolo Di Bala che diventerà poi l'uomo immagine di questa Juve perché Cristiano Ronaldo ha un certo cioè fra due anni insomma ragazzi, via, ha un destino certo alla Juve concluderà questi due anni e poi ci lascerà e quindi servirà un suo erede dal punto di vista dell'immagine Di Bala sul campo deve fare un po' di più, quest'anno ha fatto una grande stagione sicuramente deve ripetersi, questo è fondamentale, deve dare continuità a questo tipo di risultati però tornando a queste notizie se veramente Di Bala sta facendo un po' di istruzionismo per 3 milioni in più di quelli che erano già stati patuiti dalla voce del potenziale rinnovo di contratto con 12 milioni netti a stagione, a mio parere sbaglia sbaglia perché lui deve rimanere il simbolo di questa Juve, lo ha promesso ai tifosi deve assumersi le responsabilità di ciò che dice ovviamente non dico che deve morire di fame ma io credo che sia un bello stipendio in un'annata veramente storta, complicata in cui il Covid ha sicuramente portato la Juventus a fare i salti mortali nell'ambito cessioni, nell'ambito della sopravvivenza dello stesso club e così come la Juventus tutti gli altri club di serie A e serie B ci mancherebbe però avanzare questa pretesa di 15 milioni netti a stagione a mio parere, caro Paolino, è esagerato tu non vali la metà di Cristiano Ronaldo, vali un po' meno e non parlo solo a livello del campo perché sul campo insomma non è Ronaldo e Ronaldo poi Dybala è un ottimo giocatore, un free class però Ronaldo ha un altro valore è un altro brand, ha dato un accelerato una rivoluzione sul merchandising sulla commercializzazione del brand Juventus che nessun giocatore, nessun altro è in grado di dare se non forse Lionel Messi nessun altro è in grado di dare questo apporto al merchandising nessun altro io non riesco a trovare nessun altro io credo che anche dal punto di vista dell'impatto dell'influenza di Cristiano Ronaldo sulla vendita di un prodotto abbia un tasso di conversione migliore rispetto a Lionel Messi quindi i numeri parlano chiaro Ronaldo è un caso a parte non puoi avvicinarti a quello stipendio perché Ronaldo ha tutto un altro valore io credo che Dybala se sta avanzando queste pretese sapendo già di un muro da parte della Juventus alla fine secondo me è perché vuole la cessione se alza troppo la sua pretesa sapendo che la Juventus non può andare incontro sta forzando la mano in un certo senso da questa trattativa ne uscirebbe male la Juve che non riuscirebbe a dargli il contratto che vorrebbe Dybala Dybala ne uscirebbe pulito e lindo dicendo ragazzi non mi hanno rinnovato il contratto loro gli hanno avanzato la pretesa ma per loro è troppo però a me pare una roba congula questa sarebbe a livello di immagine cioè la Juventus ne uscirebbe male da quel punto di vista invece credo che Dybala debba fare un passo indietro a contentarsi qualcosina in meno magari con i bonus ai risultati raggiunti quello potrebbe essere incentivante per uno come i Lugini potrebbe essere una soluzione ma io sono sicuro che alla fine ragazzi questo rinnovo si farà lasciamo perdere i chiacchiericci perché poi ripeto c'è un momento di vuoto di news da parte della Juve se non lo staff che appunto fra un po' vi parlerò non c'è nient'altro non c'è nient'altro quindi i giornali dicono abbiamo sto buco qua nel giornale cosa ci mettiamo? Dybala Dybala 100 milioni può essere ceduto poi dai la Juve di Pirlo come sarà? immaginiamola che non è una notizia in realtà che notizia è? cioè mi dite voi che articolo è? che Juve sarà per il giornalista? vabbè Pirlo mania Pirlo sarà una Juve Pirlo tecnica come ha scritto oggi il tutto sport basando su cosa su ipotesi queste sono le notizie che ci ritroviamo questi giorni notizia vera dello staff ve la do io perché me l'ha passata il buon Romeo semaforo verde da parte della Samp per Bertelli Bertelli ex preparatore atletico del Chelsea l'anno scorso vicino alla Juventus anche con l'arrivo di Sarri poi non si è concretizzato è andato alla Samp e la Samp ha dato ovviamente l'opportunità al grandissimo preparatore dovrebbe essere il CR7 dei preparatori questo qua che è così conteso ha dato il semaforo verde appunto a Bertelli di spostarsi ecco qui a Torino di venire qui alla Juventus e fare il capo preparatori cambierà qualcosa ce l'auguriamo tutti perché siamo sempre nella cacca dal punto di vista degli infortuni per quanto riguarda il secondo allenatore cioè il vice di Pirlo ci sono ancora delle news molto confusionali si parla di Andrea Azzoli che potrebbe essere un outsider pazzesco Andrea Azzoli uomo di esperienza grande intelligenza tattica potrebbe essere un ottimo secondo d'esperienza bravo nell'organizzare il lavoro faciliterebbe l'organizzazione e la gestione del lavoro a Pirlo e l'altro di cui si vocifera è Tassoni ma su Tassoni a quanto pare secondo anche Romeo Romeo non ha conferme su questo nome quindi ragazzi è tutto un divenire Romeo si augurava che oggi ecco lo staff insomma forse al completo però insomma mi sa che ci toccherà aspettare domani vediamo io nel frattempo vi dico ragazzi che alle 18 ci sarà un video molto particolare che ci riguarda a me e voi quindi mi raccomando non perdetelo poi c'è ovviamente l'Atalanta e la guarderò e ci farei post partita doveroso doveroso vedere anche sto PSG che cazzo è diventato perché quella squadra è in grado di stupirmi sempre 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 quindi breve recap a mio parere Di Bala rinnoverà rinnoverà una cifra inferiore a quella che dicono i giornali la Juventus non prenderà in esame la sua la sua cessione soprattutto dopo l'anno scorso se è vera la notizia di 15 milioni Di Bala secondo me sbaglia questa è l'altra cosa dovrebbe abbassare un pochettino le sue pretese perché visto l'anno con il Covid ha uno stipendio comunque della Madonna e l'uomo immagine della Juve è iper tenuta in considerazione da parte di tutti della Juventus eccetera se avanza una proposta così alta la Juventus non riuscirà ad accontentarlo significa che sta cercando lo strappo a mio parere perché se tu vuoi rimanere in quella squadra stai bene per 3 milioni in una nata difficile insomma ragazzi sono soldi sono soldi cioè 12 milioni sono soldi sono soldi sono soldi se tu con 1200 euro hai il potere d'acquisto della Madonna e te ne do 300 in più ti cambia poco ti cambia pochissimo cioè facendo da 1200 a 1500 se tu con 1200 euro ti cambia alla grande e ti togli ogni sfizio possibile e immaginabile se io ti aggiungo 300 euro ti cambia la vita però potrebbe cambiare la vita del tuo padrone magari lo metti in difficoltà mia opinione personale poi i soldi sono soldi ognuno non faccio i conti in tasca a nessuno fatto sta che se Ibala vuole rimanere simbolo della Juventus sia contenti dei 12 milioni eventualmente non scassasse la minchia anche se ripeto partiamo da un presupposto che questa notizia non si sa se vera o falsa mi auguro che sia falsa e io mi auguro che Ibala rinnovi ci vediamo più tardi ciao a tutti e sempre fino alla fine forza Juve